Ciao a tutti e volete questo video in mezzo su Lotus, oggi vi porto il commento ai primi spoiler di Murtres at Carlo Manor, parliamo delle meccaniche, parliamo delle prime carte spicy che hanno fatto vedere che secondo me sono appunto le più carine. Allora, prima di cominciare vi lascia un mi piace, commentare e iscrivervi al canale, soprattutto abbonarvi che è molto importante per noi e vi ricordo il codice sconto Lotus 5 che vi dà il 5% di sconto sui prodotti non già scontati da Fantasiastore.it un prodotto che vi consiglio, che probabilmente noi prenderemo, è Cluedo Ravnica Edition perché io voglio avercelo Cluedo perché quando il mio figlio sarà più grande, che in realtà comunque ormai i bambini imparano in fretta, comunque giocarci insieme a lui, ma dentro ci sarà una Shockland assicurata della versione Cluedo, quindi la versione più caruccia full art. Cominciamo però che se no il video viene lunghissimo. Allora, le meccaniche sono, ovviamente prendo solo quelle nuove, anche se, vabbè, una che c'è, che è una ristampa, chiamala così, una riproposta, è Investigate, cioè fare i Cluedo, perché i Cluedo sono la base di tutto questo set che è sui Detective. Disguise è praticamente Morph in versione potenziata, pagate un costo, mettete la carta come 2-2 coperto, quindi a faccia in giù, e pagate il costo e la flippate, e quindi diventa la carta originale. Cosa ha di figlio rispetto a Morph è che il 2-2 ha Ward 2, quindi è più difficile interagirci, e nel Magic moderno ha molto più senso perché i 2-2 così vanilla morivano un po' da tutto. Clock è praticamente fare il Disguise, ma senza castare. Clock in media è per carte che dicono, non lo so, prendi la prima carta del Grimorio e mettila in gioco come 2-2, appunto, con War 2. Quindi sono appunto Disguise è farlo a cast, l'altro è farlo, diciamo, mettere in gioco, per capirci, ma l'idea di base è fare dei 2-2 con War 2. Sospetto è una nuova keyword che fa sì che la creatura che sia sospetta, è nervosa, è cattiva, quindi cosa succede? Ottiene minacciare e non può bloccare. È carina perché permette di far sì che una del vostro oppo magari non blocchi, quindi non è un problema per i vostri attacchi, o vi aiuta a essere più evasivi perché una vostra creatura è difficile da bloccare, quindi è buona e polivalente. Collective Evidence è carina. Collective Evidence praticamente cos'è? È un costo in più per alcune carte o per fare determinazioni, dovete esiliare dal cimitero X carte fino a raggiungere un costo totale di X. Quindi per dire, collezionare prove, non lo tradurranno, probabilmente dovete collezionare prove per fare almeno 4 di mana totale. Se invece, non so, collect 6, allora bisogna fare un costo totale di carte esiliate di 6 e così via. Carina, ci può stare e basta, questo è un bene o male le carte, appunto le meccaniche nuove. Poi c'è un nuovo tipo di carta che sono i case, i casi. Sostanzialmente i casi sono delle carte che hanno, come dire, saghe lente. Hanno un pezzo che fanno subito, che vi danno un piccolo bonus, una condizione per poterle essere risolte e poi il bonus finale. Il caso, dicono, non tutto è scritto a parentesi, se non è risolta, risolvila all'inizio del 20th step. Quindi praticamente poi partirà una trigger che fa sì che poi possa essere risolta, una roba del genere. Poi vedremo nella release note come viene fatta dal punto di vista di ruling. Comunque l'idea di base è quella. Ho già fatto abbastanza bla bla, passiamo alle carte vere e proprie. Ok, allora, le carte spice che vi presento sono, andiamo subito con ordine. Allora, Boja, Tomic e Melek, ma non perché sono forti, infatti non ve le descrivo neanche, ma perché sono delle mitiche che non troverete nel set, ma le troverete nelle pre-release pack, come carta bonus, ma non giocabile nella pre-release. Almeno lo sapete e non sono tre mitiche bustazza che vanno a inquinare il value del set. Poi, le special guest invece ve ne parlo un pochettino, sono delle ristampe che sono dentro i set, di carte che escono tipo l'1%, e sono carine perché sono versioni full art, fighe, alcune sono carte chase, cioè ricercate. Field of the Dead, non male, Drawing the Lock, Ancomo ricercata, Trader Strucker, una rara bella, Victimizer, ho bisogno di una ristampa, ci sta, Revenimino, Trader Sleep, vabbè, è una carta brutta, ci sta, ma il disegno è fighissimo, molto evocativo. Show and Tell, very nice, Fabricate, ci sta, Gossip Prison, ricercatissima per Commander, Game Ball, bella, anche se l'hanno ristampata già adesso in Ravnica Remastered, mi pare, sì, quella col Goblin che me la sono comprata. Poi, prima carta spice che vi presento, Long Goodbye, molto bella, praticamente eliminate, ma con la close questa carta non può essere canterata. Al momento non è super rilevante, perché per dire, in formato di questa carta potrebbe essere giocata, Pioneer, il Teferi a 3 è bannato, però, è bella, soprattutto per Commander, formati così, questa comunque è un uncommon da comprare. Ancomo che invece cambia tanto le equazioni, in Pioneer è standard, è No More Lies, questa è una carta molto molto figa, praticamente Manalic, né più né meno. La tratta è una spella, la tratta non spenda a 3, se la, in più però è una close che dice, canterata in questo modo, esiliata. E voi direte, ma Isma, al nostro punto che cambia, meglio sempre questi Manalic, e la piccola sfiga c'è, è Azorius, quindi dovete per forza spendere blu e bianco. In alcuni mazzi non cambia niente, quindi ovvio che è sempre un upside, in altri mazzi può cambiare. Perché appunto Manalic è più open, perché è colorless e blu. Molto bella, standard, hanno detto che non facevano più Manalic, perché è troppo forte, infatti non l'hanno più riproposto, counter a 2. Adesso però il power level dello standard è cambiato, perché hanno detto che allungandolo, rendendolo più simile a quello che era un esteso, non è la stessa cosa, lo so ragazzi, per farvi capire, il power level medio è più alto, perché le carte durano di più e quindi ci può stare. Anche in pioneer cambia, perché in pioneer i counter a 2 sono brutti, c'è solo make disappear, che però è un po' così, si gioca perché qualche volta puoi fare tappo 2, counter a 4, sacrificando delle creature, che però non è facile per i mazzi di controllo ovviamente, sacca dei token in media, o sensor, però sensor è facile giocarci attorno, perché basta avere un mana open in più, ha la cosa figa che si cicla. Tre mana in più è lo sweet spot, per questi tipi di counter condizionali, e quindi not bad, questa è una carta che io mi aspetto che verrà giocata un bel po', sia appunto che paio che standard, è molto forte, e in generale comunque commander avete un counter in più a 2, perché male non fa, generico tra l'altro perché colpisce che spell volete. Assassin's Trophy, ottima ristampa, la conoscete già, insomma, spaccate quello che volete, l'altro tiene nella terra, e poi abbiamo di Very Spicy, Very Spicy, Cranko, un ottimo goblin come lord, costo 3, 3-3 con ace, quindi bello, anche aggressivo, tappate, sacrificate un artefatto, mette un segno 1-1-1 su tutti i goblin, incluso lui, quindi non male, si può potenziare, e poi ha una trigger che dice quando sacrificate un artefatto potete pagare un mana rosso e creare un goblin 1-1-1 con ace, quindi è figo perché è una trigger che va sopra questa abilità del sacrificio artefatto, nel senso che poi triggera e risolve prima il goblin, e quindi così il goblin entra potenziato, quindi anche se avete tappato Cranko, il goblin 1-1 diventa 2-2, poi mena. Poi, cosa vi presento? Massacre Girl, molto bella questa. Allora, questa è una carta che è una reference a Ravnica Vecchia, non la prima ovviamente, ma mi sembra Return, c'era appunto Massacre Girl, una carta anche abbastanza giocata, che faceva appunto Vratta perché ammazzava tutti, facendo tanti meno numero uno, e quindi questa cosa viene richiamata, viene richiamata come, vedremo adesso, allora, tappo 4-4-4, minacciare, questa cosa è rimasta, le creature controllate hanno Wither, quindi mezzo infettare, fanno danno sotto forma agli segni di 1-1-1-1. Se una creatura dell'opponent muore, parte una trigger che dice, se va alla costruzione meno di uno, pescate. Attenzione, non una volta per turno e non uno o più, una creatura, quindi cosa vuol dire? Che per ogni creatura dell'oppo che muore, voi ci pescate. Qual è la condizione appunto della costruzione che sia meno di uno, che non è proprio facile, però ci dà una mano sul stesso effetto di Wither, quindi appunto muoiono diventando dei X-0, ma in più puoi anche fare una stagione di supporto attorno, Tragic Sleep, quindi carte del genere, meno X, meno X, insomma, ci siamo capiti, o segnali di 1-1-1 dati da altre carte, per dire Yagmoth, proliferare e continuare a metterli su, quindi ci può stare, ragazzi, e ammazzare le carte dell'altro, e pescare, direi, come è una delle cose più fighe che poi fa la magic. È una carta interessante, io la terrei d'occhio, è una mitica come ci sta. Poi, Judith Carnage Connoisseur, costo 5-3-4, praticamente è un Young Pyromancer Racto sottosteroidi. Quando casate in Star Sorcery, fa che il vostro spell hanno, scegliete uno, hanno Detouch e Life Link, ottima coi botti, guadagnate, uccidete un pezzo che volete. Ho creato un Imp 2-2, molto, molto forte, perché vola, e... no, soprattutto non vola, cazzata. Però quando muore, fa due danni a ogni vostro avversario, quindi non male, perché esplode e fa male. E lei ha un disegno molto suggestivo, mi piace un casino. Però ci può stare, ci può stare. Spell-based Ractos con tante removal. Agrus Cost, miticazza del set, anche questo è un po' bustazza, ma ci può stare. L'altro 4-2-4, Double Strike Vigilance, che ha l'effetto, appunto, che va a vedere con Sospetto, cioè quando lui entra e attacca, fate sì che una creatura diventi Sospetta. Se è già Sospetta, viene invece esiliata. Non male, fa removal, può fare no blocchi, può rendere difficile bloccare questa creatura, non male, bello, un midrangione... cioè, un aggro midrang ci può stare, un aggro con qualche value. Trata, ve la presento, perché secondo me può far salire di prezzo gli assassini, o essere un assassino commander, veramente più multiplayer che Centurion, perché il power level è un po' così. Costa 3-1-4 Detach, le carte Face Down che controllate hanno tappa 2 e Vimir, quindi 4 totale, e le potete girare. Non male, perché attenzione, anche quelle con Morphe, tutte le Face Down in generale, se non potete girarla, viene esiliata e la cassate gratis, quindi potete giocare tutto, perché è forte, perché quando vi fate danno a combattimento con un assassino, alvo un vostro avversario, fate clock su quell'opponente, quindi lui vi regala la prima carta del suo Grimorio, e la mettete voi come 2-2 con Disguise, come se fosse Disguisata, quindi 2-2 con War 2. In più, poi, a un certo punto, la giocate pagando solo 4, quello che è, insomma. Poi, Kaya, Place Walker del set, costo 4, abbiamo Place Walker che entra con 3 segnalini, ha una Trigger che dice quando una creatura che controllate o dal vostro cimitero viene esiliata, ne scegliete una di quelle che avete esiliato, con questo effetto qua, appunto, con gli effetti di esilio, e fino alla fine del turno, un vostro token e una coppia di quella creatura con il più volare. Più 2 fa Sorveli 2 e poi esiliate una carta ai cimiteri, più 1 fate uno spirito, uno che vola bianco-nero, meno 2 esiliate una creatura vostra e una per ogni giocatore, per ogni altro giocatore, tutto targettando. E non male, un po' così, ma messo in un mazzo token, è carina perché può entrare, far remur, ma dovete perdere un pezzo anche voi, è carina perché fa un po' Hell's Path Effect, nel senso che i primi due effetti sono solo dei più, quindi non... cioè, fa Sorveli facendo più e fa i token facendo più. Carina, ma niente di eclatante, secondo me. Poi, invece, queste sono delle vere carte molto spicy, che mi aspetto che verranno giocate un bel po', soprattutto i due, ma anche i formati un po' più in là, sono le terre Surveil, sono delle terre che sono con i tipi di terra base, noterete, foresta, pianura, foresta, isola, eccetera, quindi come le Shockland, entrambe forse tappate, ma quando entri in campo fanno Sorveli 1. Cos'è figo? Che le potete fecciare con le fecce, appunto, con le fecce lens. Nei formati veloci, come modern? No. Nei formati come commander, se c'è la consistenza e ripetitività degli effetti? Assolutamente sì. E anche nei mazzi, i controlli più lenti, anche standard, cose del genere. Alla fine sono come i templi, i templi sono giocabili ancora un po', qualcuno li gioca, che fanno scry 1, questi fanno come i templi, fanno però Sorveli, che è tendenzialmente meglio, e in più sono fecciabili. Quindi queste sono, forse la bomba del set, quella che impatterà di più le carte, cioè i formati, le carte che impatteranno di più formati probabilmente. Non male, ovviamente una per ogni colore, quindi come se fossero appunto le Shockland. Belle, queste sono molto approvate ragazzi, io le consiglio. Allora queste sono le carte che ho selezionato questo giro, fate sapere voi nei commenti quali vi sono piaciute, quali no, cosa ho schippato, magari è forte, le vostre impressioni, i classici vostri feedback. Ovviamente vi farmo uscire, le classifiche, tutto come al solito, non vi preoccupatevi, vi teniamo appeditati su tutto. Ciao ciao, e fate i bravi. e하�inko. this Monday. Grazie.